Sarà il francese Stéphane Lannoy a dare il fischio d'inizio questa sera alle 20.45 alla sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Milan e Tottenham. Lannoy è nato a Boulogne-sur-Mais il 18 settembre 1969 e vanta 21 direzioni di gara nelle competizioni europee, delle quali 12 in Champions League. Non ha nessun precedente con il Milan, mentre arbitrato gli inglesi il 6 marzo 2008 in Coppa UEFA in occasione di Tottenham PSV Eindhoven, terminata con il risultato di 1-0 per la formazione ospite. Francese anche il resto dello staff arbitrale, con i guardaline Eric Denso e Laurent Hugo e gli assistenti aggiunti Anthony Gauthier e Rudy Bouquet.